Consapevolezza, riflessione, educazione, questo vuole raggiungere guerriera lo spettacolo teatrale promosso dalle sessorati alla cultura e le pari opportunità del Comune di Belluno in occasione della giornata internazionale della donna. È una forma di educazione al rispetto degli altri, alla tutela della dignità della persona e in particolar modo della donna che come noto come dignità è un diritto inviolabile garantito a livello costituzionale. Quindi intendiamo riproporre attraverso una finalità educativa e civica questo tema. Sul parco l'attrice bellunese Cristina Gianni sarà lei a dare corpo e voce al monologo che vedrà due protagoniste la professoressa di Lettele Vittoria, vittima del compagno, e la guerriera Mazzone Asteria. Il tema che viene affrontato è quello della violenza psicologica a cui poi si collegano varie riflessioni per esempio sui diritti sul diritto di poter scegliere che tipo di vita condurre al di là dei preconcetti. A dimostrare come la violenza possa colpire chiunque l'attività di Vittoria che non è stata scelta a caso. Volevamo puntare proprio sul fatto che la violenza, noi parliamo di violenza psicologica in questo caso, ma possiamo dire che la violenza in senso lato può purtroppo colpire non solamente le donne per le quali noi possiamo pensare che non ci sia un'alternativa, ma anche chi magari come Vittoria può avere una possibilità di scegliere, di scegliere un proprio lavoro, di essere indipendente. L'appuntamento nel Salone Nobile di Palazzo Fulci si è per le 18 di sabato a 9 marzo, tanto che l'assessora alle pari opportunità Simonetta Buttignon lo ha descritto come un passo di un percorso di educazione e sensibilizzazione attorno all'8 marzo. Ingresso gratuito ha consigliato alla prenotazione e c'è anche un piccolo suggerimento per l'abbigliamento. È un semplice invito, una esortazione molto quasi, se vogliamo, simpatica, o il giallo della minuosa, che è il fiore simbolo dell'8 marzo, oppure il viola, che è il colore scelto per dare un significato profondo, ancorché meramente cromatico, a questa giornata. Ma in realtà è il messaggio civile, al di là del colore, che deve essere trasmesso e che poi deve essere portato a compimento ogni giorno dell'anno nei confronti delle donne.